è di lunedì 21 giugno e lo abbiamo trasmesso agli organi competenti eh prima di dare lettura eh degli esiti così come previsto dal regolamento diamo lettura risultati per i candidati della sezione A la lettura sarà data in ordine eh di voto quindi eh in base a chi ha ottenuto più voti prima persona prima candidata Matera Filomena seicentocinque voti seconda candidata Farina Valentina quattrocentotantasei voti terza Giotta Pamela quattrocento ventiquattro voti quarta Chiarelli Riccardo quattrocentosei voti quinto Fiorentino Massimiliano trecento novantadue voti sesta Mazzeo Sara trecentosettantanove voti settimo Ficco Regino Susanna trecentosessantun voti ottavo Bianchi Maria Rosaria trecento quarantotto voti diamo lettura anche di coloro che sono posizionati oltre all'ottava posizione per una questione di trasparenza Stincone Maria Rosaria trecentotrentadue voti Lezzi Maria Antonietta trecentosedici voti Porti in casa Michele trecentotredici voti Galeone Ignazio trecentototto voti De Milito Gianluca duecentonovantasette voti Valentino Valeria duecentosettantasette voti De Iacco Domenica duecentoventotto voti Riccardo Cinzia duecentododici voti Cesario Maddalena centotantanove voti Sambati Antonietta centottantun voti Calasso Simonetta Giuseppina centosessantanove Lecci Giuliana centosessantasette voti Bettini Elda centocinquantatre voti Greco Francesca centotrentadue voti Mucci Daniela centoventi voti Munno Domenica novantanove voti Ras Simona novantasei voti Nigro Carmen sessanta voti Sezione B risultati per i candidati della sezione B Eh saranno eletti i primi sette Prima posizione Del Grosso Giuseppe Cinquecento voti Di Maggio Francesco quattrocentosettantun voti Pedone Siria trecentosessantasei voti Moschetta Natascia trecentoquarantasei voti Ripa Vincenza Cinzia trecentoquarantacinque voti Maiolo Alessandra Francesca trecentotrentotto voti Fonseca Francesca trecentonove voti Continuiamo con la lettura dall'ottavo posizione in poi Porcino Valentina trecentonove voti Rollo Miriam trecentoquattro voti D'Alonso Roberta duecentotantasette voti Fasano Giuseppe duecentotanta voti Rendina Simona duecentoquaranta voti Laureola Libera duecentoquattordici voti Centaro, Centaro Carlotta Angela Rosa duecentonove voti Urso Dalila centosettantun voti Martigiano Danilo centoquarantaquattro voti Perfetto Patrizia centotrentanove voti Sambiasi Monica centotrentun voti Tondo Maria Rosaria centoventinove voti Altamura Silvia centoventitré voti Pastore Francesca centoventun voti Guglielmo Fabrizio centonove voti Zingaro Laura novantasette voti Castelluzzo Mariusi novantacinque voti Donateo Flavia settantasette voti De Giovanni Giambattista quarantun voti Per quanto riguarda invece risultati per i candidati a revisore unico Abbiamo Mezzina Michele quattrocentosessantaquattro voti Vantaggiato Graziano duecentotrentun voti Pellicciari Valentina duecentotventotto voti Fabroni Roberto centoquarantadu voti Ok? Auguriamo a tutti quelli che sono stati eletti e anche ai non eletti di lavorare benissimo e insieme per una crescita della comunità professionale sempre costante Buon lavoro a tutti Grazie 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 a tutti